La Maratonina di Primavera Una grande passione che ha spinto giovani e meno giovani a cimentarsi in una corsa da molti definita impegnativa Ho battuto uno che mi batte sempre oggi La categoria è chiara La corsa è bene, un po' di salita, un po' dura però presa nelle dute forze è bellissima La Maratona è andata bene, i partecipanti sono numerosi anche se nei vittorni è pieno di maratomine Stamattina penso ce ne saranno 10 nel circondario, nelle zone di Mitro No è andata bene, l'unico punto un po' preoccupante per me e per l'associazione Due atleti sono sentiti male però tutto a posto Tra i due atleti che si sono accasciati al suolo per lo sforzo dopo aver raggiunto il traguardo Anche il primo arrivato che dopo le cure della Croce Rossa ha ritirato la coppa con le sue mani tra gli applausi dei presenti